Gli Stati Uniti evitano la banca rotta grazie all'accordo fra democratici e repubblicani che prevede un aumento del tetto del debito ma anche taglia la spesa pubblica. Obama dice non è l'accordo che volevo ma così evitiamo il default e oggi il via libera dal congresso. Buona la reazione dei mercati, anche Milano con il segno più. Crisi economica, oggi si decide se Berlusconi interverrà in Parlamento. L'idea non piace alla Lega ma tutti nella maggioranza e nell'opposizione cercano in queste ore il dialogo e il confronto con le parti sociali per trovare delle ricette per rilanciare lo sviluppo. Orrore a Lampedusa, trovati cadaveri di 25 giovani nella stiva di un barcone soccorso all'Alba e proveniente dalla Libia. A bordo c'erano 271 persone. Le vittime erano stipate nella sala motori e sarebbero state uccise dai gas di scarico delle macchine. E' una quarantina di feriti a Bari dopo una vera e propria guerriglia tra forze dell'ordine e migranti. Gli extracomunitari sono usciti dal centro di accoglienza per protestare per i ritardi nel riconoscere lo status di rifugiato. Scontri con le forze dell'ordine dopo l'occupazione della tangenziale e della linea ferroviaria. E ancora morti a Dama in Siria dove è stata durissima la repressione delle forze governative contro i dissidenti. Forse un centinaio le vittime. Il presidente siriano Bashir Assad si è complimentato invece con l'esercito che ha difeso il regime. Cresce lo sdegno internazionale per questo. La Nato però frena. Non ci sono le condizioni, dice, per un intervento militare. Buongiorno dal telegiornale, ben trovati. Cominciamo questa settimana con una notizia davvero molto, molto positiva. È stato raggiunto, avete sentito l'accordo bipartisan negli Stati Uniti per superare la crisi economica, che significa che si eviterà il cosiddetto default, cioè la crisi dello Stato americano sarebbe stata la prima volta nella storia. Lo ha annunciato lo stesso presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in quello che sicuramente è stato il suo discorso più importante della presidenza. Facciamo subito il punto con Carla Rumor. A una manciata di ore dal fatidico 2 agosto, Barack Obama annuncia che il pericolo è scongiurato. L'accordo c'è, il default è evitato. Dopo settimane di negoziazioni e sgambetti fra democratici e repubblicani, intenti a salvare oltre che l'economia americana anche la reputazione in vista delle elezioni presidenziali del 2012, i due schieramenti hanno raggiunto un accordo bipartisan per innalzare il tetto del debito, quei 14 mila miliardi di dollari che hanno fatto tremare il mondo. E dunque, eccolo l'accordo, aumento del tetto del debito per 2.100 miliardi di dollari, taglia le spese per 1.000 miliardi di dollari, ulteriore taglio di 1.500 miliardi a fine anno che una commissione bipartisan dovrà presentare entro il 23 novembre. Certo, non è l'accordo che Obama aveva sperato, accusato di essere stato troppo debole con l'opposizione e di aver concesso troppo, il piano infierisce sulle spese, soprattutto al welfare, più che sulle tasche dei ricchi americani e delle corporazioni, come il presidente avrebbe voluto. Ma serve a scongiurare la bancarotta, ridare un po' di vigore alla fragile economia americana, mantenere il rating AAA, rassicurare gli investitori e possibilmente recuperare le perdite subite da Wall Street nelle ultime settimane. E questa era la priorità. La riforma fiscale e quella sanitaria arriveranno, assicura Obama, come assicura che nonostante i tagli porteranno il paese al più basso livello di spesa dai tempi del presidente Eisenhower, ci sarà ancora spazio per investire sulla creazione di posti di lavoro, sull'educazione e sulla ricerca. Nell'attesa che il congresso si riunisca oggi per dare il via libera ufficiale al piano a Obama e non solo a lui, non resta che scongiurare possibili colpi di testa durante il voto delle frange più radicali a destra come a sinistra. Non solo il Tea Party, il movimento antitasse repubblicano, ma anche le schegge impazzite del suo partito. Non solo in America si aspettava questo accordo bipartisan, anche in tutta la comunità internazionale perché questo avrà influenze dirette sui mercati di tutti i paesi. Allora sentiamo come è andata questa mattina, come hanno reagito le borse nel servizio di Sonia Mancini. I mercati finanziari mondiali tornano a respirare. Dopo un apnea che li aveva portati ad un passo dalla sfissia, la notizia del compromesso raggiunto tra democratici e repubblicani per innalzare il tetto del debito degli Stati Uniti ha ridato ossigeno prima alle piazze asiatiche, poi a quelle europee. Scampato rischio default americano quindi? La risposta arriverà nelle prossime ore, quando il congresso voterà effettivamente l'accordo con l'aumento dell'indebitamento federale e i tagli alle spese in 10 anni per 2.500-3.000 miliardi di dollari. L'idea che Capitol Hill possa arrestare la minaccia delle agenzie di rating Standard & Poor's e Moody's di svalutare domani il debito sovrano statunitense da fiato alle borse. Rialzi di oltre un punto percentuale a Tokyo, Hong Kong, Seoul, Singapore e Sydney. Solo Shanghai fa segnare un piccolissimo incremento. Il ritorno della fiducia si legge anche nelle aperture delle piazze europee, dove dopo giorni di vendite sfrenate gli investitori sono tornati a comprare. In particolare gli acquisti premiano le banche, i titoli automobilistici e quelli delle materie prime. A parte Zurigo, chiusa per festeggiare i 720 anni della nascita della Confederazione, Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam, Stoccolma aprono guadagnando intorno all'1%, mentre Milano si avvicina a 4-2%. A metà mattinata però i dati in arrivo dall'Istat sulla disoccupazione contribuiscono a ridurre gli entusiasmi di piazza affari, che conferma comunque il segno più. Torna a scendere anche lo spread tra BTP e Bund tedeschi, oggi a quota 323 punti contro i 334 di venerdì scorso. Intanto anche il cambio euro-dollaro si riassessa su dati positivi per i paesi dell'Unione. Alle 10 di stamani era a quota 1,43 e 86. Ma la giornata è ancora lunga per i mercati, è presto per cantare vittoria. I dati sulle vendite del settore dell'auto in Italia e il punto interrogativo sull'accordo americano potrebbero frenare l'ottimismo di questa mattina. Sono in molti, lo avrete letto, a temere che la crisi economica che avete sentito riguarda naturalmente anche il nostro paese sia anche dovuta a una crisi politica, la poca affidabilità di questo governo, del nostro paese anche a livello internazionale. Tanto che il presidente Berlusconi sta valutando l'ipotesi di intervenire proprio su questo punto in aula, di parlare con un discorso alle Camere. La decisione ancora non è stata sciolta. Nel frattempo però le forze politiche si interrogano su un eventuale dopo Berlusconi. Vediamo allora nel servizio quali sono le varie ipotesi del servizio di Francesca Tudini. Siamo disponibili ad un confronto con le parti sociali. Ci sono le condizioni per fare un patto per la crescita. Il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, intervistato da Repubblica e messaggero, si dice pronto a parlare di crisi e di rilancio dell'economia in Parlamento, accogliendo l'appello che arriva dal mondo della produzione e del lavoro, ma difende l'operato del governo in campo economico. Di fronte agli attacchi degli speculatori le nostre banche sono solide come i fondamentali della nostra economia, spiega. Si spinge anche oltre il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, che spiega che dopo l'approvazione della manovra il governo avvierà il confronto con le parti sociali, allo scopo di condividere le responsabilità degli attori istituzionali, economici e sociali per la crescita dell'economia e dell'occupazione nel paese, anzi aggiunge c'è già un'agenda in cinque punti per il dialogo con tutte le parti sociali, dialogo sul quale insiste anche il ministro per l'attuazione del programma Gianfranco Rotondi, che disegna anche gli scenari di questo momento politico. Dopo Berlusconi dice c'è soltanto il voto, gli aspiranti ribaltonisti che immaginano governi tecnici oppure istituzionali o di transizione si rassegnano, avanti tutta con questo governo fino al 2013. Insomma, tante voci l'apertura del governo allo sforzo congiunto per la ripresa ed ha anche una risposta alle iniziative che arrivano dall'opposizione. Non è escluso che a parlare dello stato dell'economia e degli sforzi per la ripresa sia lo stesso Premier con un discorso in Parlamento. La decisione forse arriverà oggi. L'idea di Berlusconi alla Camera non piace però a Calderoli. Il ministro per la semplificazione definisce l'iniziativa fuori tempo e fuori luogo. Il Parlamento ha già approvato la manovra, spiega Calderoli, che poi rilancia la sua idea di un campus per raccogliere le proposte. Solo dopo, conclude il ministro Leghista, avrà senso che il Premier venga a riferire. E l'ipotesi di cui vi parlava Francesca Todini di questo incontro del governo con le parti sociali proposta da Romani in realtà si è concretizzata proprio in queste ore perché è stato fissato per giovedì mattina un incontro appunto con le parti sociali, una riunione diciamo di emergenza, sull'emergenza economica che era stata chiesta da sindacati, banche e imprenditori. Vi ricordo che peraltro giovedì pomeriggio le stesse parti sociali incontreranno invece i rappresentanti dell'opposizione naturalmente sempre sugli stessi temi. Allora facciamo il punto con Manuela Ferri. Il governo non è in grado di gestire la crisi economica, se ne deve andare. Le opposizioni compatte insistono sulla richiesta di dimissioni dell'esecutivo. PD, IDV e Terzo Polo puntano a far saltare il calendario del Parlamento che prevede la chiusura dei battenti di Camera e Senato tra martedì e mercoledì. Stroncato sul nascere il mega pensatoio per lo sviluppo proposto da Calderoli liquidato come una butad. La sessione sulla crisi si deve tenere in Parlamento e tempo di decisioni non di campus estivi è la replica delle minoranze che hanno incassato per mercoledì un incontro con le parti sociali. Una manovra tenaglia in nome di quella discontinuità di azione in campo economico e sociale sollecitata la settimana scorsa dal documento sottoscritto da tutte le sigle imprenditoriali e sindacali ad eccezione della Will. Il pressing passa poi attraverso la richiesta a Berlusconi di riferire in Parlamento sui rischi che corre il Paese di fronte agli attacchi della speculazione. Se non lo farà sarà l'ennesima dimostrazione che a lui interessa solo restare al suo posto, attacca Dario Franceschini. Per il capogruppo e la Camera del PD c'è bisogno di un governo guidato da una persona di grande credibilità internazionale che gestisca la crisi, cambi la legge elettorale per poi andare al voto con una grande alleanza delle forze dell'opposizione. Mario Monti è il nome su cui punta il democratico Morando. Un esecutivo di larghe intese è anche l'obiettivo del terzo polo però con un premier politico e non tecnico. Una proposta che però non convince l'Italia dei valori che insiste sulla richiesta alle minoranze di sostenere la sua mozione di sfiducia e poi andare subito ad elezioni a novembre come in Spagna. Anche i radicali bocciano un governo tecnico, un paravento poco trasparente secondo la Bonino. E che la situazione economica resti davvero preoccupante lo dimostrano anche i dati che sono usciti questa mattina dall'Istituto di Statistica e che riguardano proprio la disoccupazione nel nostro paese. Sentiamo Filippo Barone. Resta allarmante la situazione occupazionale in Italia. Gli ultimi dati Istat ci dicono che continuano a diminuire i posti di lavoro mentre aumenta il numero di quelli che rinunciano a rimettersi in pista, scoraggiati da un mercato asfittico. Se diminuiscono i disoccupati, meno 7.000 nel mese di giugno, con un tasso inchiodato all'8%, pari a 2 milioni di persone, non c'è troppo da rallegrarsi. Il calo non riguarda infatti nuove assunzioni, visto che nello stesso mese l'Istat registra una perdita di 14.000 posti di lavoro. Si tratta evidentemente di persone che stanno smettendo di cercare un lavoro per finire nel limbo degli inattivi, cioè di coloro che non hanno un lavoro e che non lo cercano o non sono disponibili a iniziarlo subito. A differenza dei disoccupati, a giugno gli inattivi sono aumentati di 22.000 unità, portando il dato complessivo al 38,1%. Proprio la ricerca di un lavoro spesso è all'origine di tragedie della migrazione, ne è capitata un'altra. Il teatro è sempre Lampedusa, è stata scoperta questa mattina e sono 25 le vittime. Ci racconta tutti i particolari Sergio Gamberale. Altre 25 vittime sulla rotta della disperazione, tutti giovani africani provenienti dalla Libia e morti asfissiati sulla barca che li portava a Lampedusa. Fuggivano dalla fame e dalla guerra, hanno trovato la morte sulla via della salvezza. Li hanno trovati già cadaveri gli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che stanotte hanno soccorso con tre motovedette a circa 35 miglia dall'isola il barcone su cui viaggiavano. A bordo c'erano altre 271 persone, tra cui 36 donne e 21 bambini. I migranti sarebbero morti circa 48 ore fa, molto probabilmente a causa delle esalazioni del monossido di carbonio sprigionato dal motore. Una sfissia collettiva, una scena che i soccorritori non potranno dimenticare. Le vittime si trovavano nella stiva di un barcone di appena 15 metri all'interno della sala macchine. Tra loro e il ponte dove avrebbero potuto salvarsi, c'erano solo 55 centimetri di boccaporto, ostruiti dagli altri migranti. Per questo non sono riusciti a mettersi in salvo. Nessuno tra i superstiti sembra essersi accorto della tragedia, ma qualcuno ha parlato invece di un uomo scalaventato in mare da tre compagni di viaggio in seguito ad un litigio. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo. Toccherà ai PM chiarire le circostanze che hanno portato a questa ennesima tragedia del mare. Il presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, Pietro Marcenaro, ha chiesto che il ministro degli interni Maroni riferisca urgentemente a Palazzo Madama. Una sciagura che segue di pochi mesi la tragedia dell'aprile scorso, il naufragio in cui persero la vita 250 migranti a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Anche chi riesce a superare in colome questi viaggi della speranza spesso poi si trova di fronte a grandi difficoltà, grandi sofferenze qui nel nostro paese. Questa mattina a Bari un gruppo di migranti ha protestato con molta violenza all'interno di un centro di accoglienza, tanto che sono dovute intervenire le forze dell'ordine perché sono usciti anche da questo centro di accoglienza e si è scatenato, lo vedrete tra poco nelle immagini, davvero una sorta di guerriglia urbana. Ci racconta tutto Andrea Prandi. Strade e binari bloccati, forze dell'ordine attaccate con spranghe e sassi. Al Cara di Bari il centro di accoglienza esplode violenta la protesta degli immigrati richiedenti asilo. Dalle prime luci dell'alba decine di manifestanti hanno bloccato la linea ferroviaria Barifoggia e la superstrada 16 bis, creando gravi disagi alla circolazione tuttora rallentata. Una protesta che sfocia in violenza all'arrivo delle forze di polizia che cercano di ristabilire l'ordine. I manifestanti, alcuni dei quali sono armati di spranghe e sassi, non intendono spostarsi. Prima vogliono l'assicurazione che avranno il permesso di soggiorno, che alcuni di loro aspettano da mesi. I poliziotti allora intervengono per riportarli nel centro. Sale la tensione, le forze dell'ordine vengono prese a sassate e rispondono con il lancio dei lacrimogeni per disperdere la folla. Negli scontri vengono danneggiate alcune auto della polizia e un autobus di linea, colpito dalla fitta sassaiola. Volano sassi anche verso una troupe televisiva locale che stava cercando di intervistare alcuni manifestanti e contro alcuni passanti. Poliziotti e carabinieri riescono a disperdere gli immigrati e a rimandarne la maggior parte verso il centro di accoglienza, dove le violenze però continuano e viene data alle fiamme una tensostruttura. Il bilancio provvisorio è di circa 40 feriti tra dimostranti e forze dell'ordine. Il traffico intanto sta lentamente tornando alla normalità, sia sulla superstrada che sulla ferrovia, anche se sono stati cancellati numerosi treni regionali sulla linea Bari-Foggia, mentre alcuni convogli a lunga percorrenza hanno accumulato gravi ritardi. Oltre alla questione dei migranti c'è un altro caso che sta preoccupando queste ore, in questi giorni, anzi sarebbe meglio dire il governo, è la vicenda del ministro Tremonti che aveva rivelato di essere stato pedinato, spiato. Bene, questa vicenda sta diventando oltre che politica ha anche una vicenda giudiziaria. Ce ne parla Rossana Russo. Spiato, controllato, pedinato. Quanto riferito dal ministro Tremonti in un colloquio con Repubblica è da giorni sul tavolo dei magistrati romani. La procura in queste ore aprirà un fascicolo per adesso senza ipotesi di reato o indagati. Agli atti gli articoli del quotidiano in cui Tremonti racconta di sentirsi spiato nella caserma della Guardia di Finanza e di aver deciso quindi di trasferirsi nella casa romana di Marco Milanese, il deputato del PDL su cui pende una richiesta di arresto. L'immobile nel centro di Roma, proprietà del Pio Sodalizio dei Piceni, aveva un canone di 8.500 euro al mese. Tremonti dava a Milanese circa metà del fitto pagando in contanti 1.000 euro a settimana. Poi però è spuntata la testimonianza di Tommaso Dilernia, indagato nell'inchiesta ENAV, che ha dichiarato al GIP di aver saputo che quella casa veniva pagata da Angelo Proietti, l'imprenditore edile che secondo l'accusa avrebbe ricevuto appalti dalla Sogei, società generale di informatica controllata dal Ministero del Tesoro. Proietti avrebbe anche effettuato lavori di ristrutturazione gratis per Milanese anche nell'appartamento di via Campo Marzio. Ma la nuova indagine della Procura di Roma parte dalle presunte accuse di Tremonti nei confronti delle fiamme gialle, accuse in parte ridimensionate da Tremonti che ha ribadito la sua fiducia nella Guardia di Finanza e ha parlato di forzature mediatiche delle sue parole. Nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti i finanzieri che hanno fatto da scorta al Ministro dell'Economia. I magistrati cercheranno riscontri su quanto riferito dallo stesso Ministro ai PM napoletani che indagano sulla P4, dai quali Tremonti è stato sentito come persona informata dei fatti. Durante il colloquio con gli inquirenti il Ministro ha parlato di una guerra tra bande all'interno della Guardia di Finanza per la nomina del Comandante Generale. Ha fatto il nome dell'allora capo di Stato Maggiore il Generale Adinolfi, lo stesso che secondo Milanese anche lui sentito come teste avrebbe fatto sapere al faccendiere Luigi Bisignani di indagini in corso che lo riguardavano. Milanese accusato di corruzione, associazione per delinquere, rivelazione di segreto d'ufficio, reati per i quali pende alla Camera la richiesta di arresto, dovrà spiegare ai magistrati anche l'origine dei 250 mila euro che avrebbe dato, a titolo di garanzia, di un debito di 650 mila euro al commercialista Guido Marchese e al sindaco di Voghera Carlo Barbieri, entrambi arrestati e poi scarcerati. I due coinvolti nella compravendita di una casa a Cannes dello stesso milanese avrebbero beneficiato di nomine in aziende pubbliche grazie proprio all'intermediazione del deputato del PDL. I 250 mila euro avuti da milanese, racconta Marchese, non potevano essere depositati e allora li ho tenuti nel mio ufficio nascosti in una scatola di scarpe. E c'è un'altra inchiesta che coinvolge direttamente il mondo politico, è quella condotta dalla procura di Monza e che vede l'indagato Filippo Penati che allora era sindaco proprio della cittadina alle porte di Milano. Sentiamo Lorenzo Morelli. Nomi in codice, iniziali e soprannomi. È lungo l'elenco delle ricevute che l'imprenditore Piero Di Caterina avrebbe annotato tra il 2002 e il 2007 usando un codice criptato. La segretezza era necessaria perché si trattava della lista dei presunti destinatari delle tangenti per ottenere concessioni edilizie nelle ex aree Falc e Marelli di Sesto San Giovanni. Procede quindi l'inchiesta sullo scambio favori soldi condotta dalla procura di Monza che vede tra gli indagati Filippo Penati, all'epoca dei fatti sindaco della città alle porte di Milano. L'accusa per l'ex capo della segreteria politica del leader di S, Pierluigi Bersani, è di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti. Oltre a Penati, nell'elenco dei PM Walter Mapelli e Franca Macchia ci sono anche il suo braccio destro Giovanni Vimercati, il costruttore Giuseppe Pasini, l'architetto Marco Magni, l'immobiliarista Luigi Zunino e il suo socio in affari Giuseppe Grossi, il re delle bonifiche. Tra i nomi dei pizzini consegnati da Di Caterina compare Bruno che riceve 10 milioni, poi c'è un Big Bruno che ne prende 6. Si potrebbe pensare a Bruno Binasco, ex manager del gruppo Itinera di Marcellino Gavio, oggi indagato nell'inchiesta su Penati, al quale avrebbe versato in nero 2 milioni di euro l'anno scorso. La lista contiene anche 9 versamenti da 5.000 euro l'uno effettuati al presidente tra il 2005 e il 2006, proprio quando Penati era il presidente della provincia di Milano. Ora il compito dei PM sarà decifrare i documenti e risalire all'identità dei beneficiari e soprattutto seguire il flusso del denaro e capire se queste cifre sono state effettivamente versate. Di Caterina dice di non ricordare a chi corrispondano nomi e sigle, ma afferma sicuro che la procura di Monza e la guardia di finanza hanno in mano tutti gli elementi per lavorare e fare chiarezza sul giro dei pagamenti. Vediamo le notizie dall'estero. Sapete della situazione drammatica che c'è in Siria in questi giorni, il giorno dopo quella che è già stata definita una strage contro gli oppositori. La comunità internazionale sta valutando l'ipotesi di intervenire, in particolare la Gran Bretagna, addirittura dal punto di vista militare, anche se la Nato ha già fermato qualsiasi ipotesi del genere. Comunque è stato annunciato proprio poco fa da parte dell'Europa nuove sanzioni nei confronti appunto del governo di Assad. Il regime invece si è complimentato con i militari che sono riusciti a soffocare queste proteste. Peraltro questa mattina proprio all'alba c'è stato un nuovo attacco nella città di Hama. Sentiamo la cronaca da Flavia Fratelli. È un'alba di sangue quella che sveglia nuovamente Hama. La città siriana, teatro ieri di una vera e propria strage, non ha riposato molto. Questa notte è scossa ancora da sporadici colpi d'arma da fuoco, ma è con le prime luci del giorno che gli spari si fanno sentire sempre di più. A metà mattinata sia al Jazeera che diversi attivisti per i diritti dell'uomo confermano l'uccisione di due persone nel corso di una perquisizione, mentre altri due civili sarebbero morti in seguito alle cannonate che ancora scuotono la città. Pochissima tuttavia al momento è la gente per strada, rinchiusa in casa, ma pronta a quel che si dice per una nuova fiammata di protesta attesa per questa sera. È al tramonto infatti che termina il periodo di digiuno imposto dal ramadama appena iniziato ed è dopo la rituale preghiera alle 8 della sera che gli scontri potrebbero ripetersi. Si teme ancora più sanguinosi. Almeno 136 le vittime ieri, forse persino il doppio, talmente tante comunque che, dice un testimone oculare, molti cadaveri sono stati sepolti nei giardini pubblici, mentre si teme anche per la sorte dei feriti, visto che in città comincia a scarseggiare il sangue per le trasfusioni e i medicinali. Del resto i carri armati che ieri hanno compiuto il massacro sono ancora ad Amman, mentre stamane il presidente siriano Assad, approfittando del 66esimo anniversario delle forze armate, si è congratulato con l'esercito per aver sconfitto il nemico, definendo i militari patrioti e simbolo dell'orgoglio nazionale. Eppure la rivolta di Amman non è certo un caso isolato. Violenze vengono segnalate anche nella città di Dair al-Zor e una manifestazione sarebbe stata organizzata a Daraa. Notizie queste difficilmente verificabili, come le immagini che vi proponiamo e che sono frutto dell'azione di attivisti e volontari. Eppure, nonostante la censura operata dal regime di Assad, le notizie del massacro compiuto ieri hanno scosso la comunità internazionale, al punto che persino la Russia, tradizionale alleato della Siria, oggi ha chiesto la fine delle violenze e dell'azione repressiva. Anche l'Europa si mobilita e annuncia nuove sanzioni contro Damasco. Tuttavia le condizioni per un intervento nel paese, così come sta avvenendo in Libia, non ci sono. Lo ha ribadito il segretario generale della Nato, Rasmussen, mentre sta per riunirsi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Adesso parliamo di notizie sportive, in particolare di calcio. Come sapete, naturalmente proseguono le trattative del calcio-mercato, ma questa è anche la settimana del primo trofeo. A Pechino infatti si gioca la Supercoppa tra Milan e Inter. Francesco Inzi. Con il cartello lavori in corso, ormai in bella mostra in tutti gli spogliatoi, il nostro calcio apre la settimana che conduce a Pechino per la Supercoppa di sabato. Milan e Inter vanno a giocarsi il primo derby con l'orgoglio che inevitabilmente è uno stimolo per il risultato, ma con tante problematiche ancora in ballo. L'umore dei nerazzurri è condizionato dalla brutta prestazione con il Manchester City, che pur con le attenuanti solleva alcune perplessità. Per Moratti è arrivato il momento di fare delle scelte sui nuovi pesanti. Si riaccende l'interesse del Manchester United per Snyder e il fatto nuovo è che l'olandese non esclude un clamoroso passaggio in Premier. I dirigenti inglesi avrebbero riallacciato la trattativa con il calciatore per raggiungere un accordo di massima sull'ingaggio. Snyder chiede un contratto quadriennale. A quel punto si passerebbe all'incontro con l'Inter, che pretende non meno di 35 milioni. Sull'altra sponda di Manchester c'è quel Carlito Tevez, che ormai non è più funzionale al progetto di Mancini, dopo l'arrivo di Aguero. Casperini lo vorrebbe, ma è ancora molto alta la valutazione del City, 45 milioni. L'Inter potrebbe inserire Mike Conner nella trattativa, ma sul brasiliano c'è sempre Real Madrid, che propone in cambio Gago più 8 milioni cash. Per quanto riguarda gli arrivi, il desiderio è Casemiro, ma sul 19enne del San Paolo ha messo gli occhi anche la Roma. Il Milan, che parte oggi per la Cina, potrebbe perdere Antonio Cassano. Dovrebbe essere lui a chiedere la cessione per giocare di più, pensando anche alla nazionale. Potrebbe andare al Genoa, ipotesi suggestiva e sorprendente. Con Montolivo che si allontana, Galliani starebbe pensando ad Aquilani, disposto anche a ridursi l'ingaggio. Nell'Inghilterra si registra lo sfogo di Balotelli, che esterna al suo malessere a Manchester. Ufficialmente gli manca la famiglia, ma anche il rapporto con Mancini potrebbe essere logoro. Ripensare alla recente bacchettata. E poi con la grande concorrenza, per Mario il posto è tutt'altro che garantito. In testa lui immagina un futuro al Milan. Oggi Bucinic diventa un giocatore della Juve. Ma non c'è solo il calcio, naturalmente sono giornate importanti soprattutto per i fan della McLaren, ma anche per i fan delle moto, della Ducati. Sentiamo perché da Paolo Pellacani. Due vittorie in una settimana. Domenica scorsa Hamilton, ieri Button e la rivincita della McLaren. Tra scherzi della pioggia, pit stop, sbandate strategie più o meno azzeccate e la freccia d'argento dell'inglese Button a passare per prima sul traguardo del Gran Premio d'Ungheria, proprio come nel lontano 2006, quando sullo stesso circuito vinse la sua prima gara. Secondo Sebastian Vettel, che è sempre più in volo verso il bis del titolo iridato, continua a guadagnare terreno sui rivali più pericolosi. Lewis Hamilton, da primo a quarto per un errore di strategia, e Fernando Alonso, che tra qualche incertezza alla partenza e l'azzardo delle gomme super soft, riesce a rimontare fino al podio dalla quinta posizione. Chiude sesto l'altro ferrarista Felipe Massa, mai nel vivo della corsa, dietro ad uno sbadato Mark Webber. È vero che Alonso ieri è andato per la quarta volta consecutiva sul podio e in quattro Gran Premio ha raccolto 76 punti più di tutti, ma è altrettanto vero che la rossa continua ad avere problemi con le gomme quando fa freddo. Il distacco da Vettel è adesso di 89 punti, ma la Ferrari lotterà fino alla fine, a cominciare da Spa, tra un mese, primo Gran Premio dopo la pausa estiva. Un'altra rossa, ma su due ruote, entra intanto nella storia della superbike. La doppietta di Carlos Cech a Silverstone, undicesima prova del mondiale, porta le vittorie della Ducati alla quota record di 301 mai raggiunta da altre case motociclistiche. Una scia di successi cominciata proprio in Gran Bretagna nel 1988 al debutto del campionato superbike Marco Lucchinelli portò la sua 851 al successo a Donington Park. Da allora la Ducati e i suoi piloti non hanno mai smesso di vincere conquistando ben 13 titoli ridati piloti. Con la vittoria di ieri Ceca si allontana ancora in vetta la classifica da Max Viaggi. Ci fermiamo solo qualche istante ma restate lì perché c'è un aggiornamento importante dopo la pubblicità. Eccoci nuove in diretta. Vi dicevo che c'è un aggiornamento importante perché il Presidente del Consiglio Berlusconi ha annunciato proprio poco fa di essere disponibili a riferire alla Camera e al Senato prima alla Camera e poi al Senato mercoledì prossimo quindi tra due giorni sulla crisi economica quindi sulla situazione economica del nostro Paese. Quello che sostanzialmente gli era stato chiesto da più parti nei giorni scorsi vi dicevo nel corso del giornale dell'ipotesi la possibilità di un suo intervento. Intervento che è stato confermato e vi ricordo tra l'altro che giovedì dunque il giorno dopo l'intervento in aula del Presidente del Consiglio ci sarà invece l'incontro tra il Governo e le parti sociali e poi nel pomeriggio l'incontro tra le opposizioni e le parti sociali. Dunque di fatto è sfumata l'ipotesi di un tavolo unico ma evidentemente il focus di questi giorni politici resta la grave situazione economica del nostro Paese. Io per ora mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo come sempre il prossimo appuntamento con il telegiornale alle 20 questa sera e per tutti gli altri aggiornamenti il nostro sito www.tgla7.it. Buona giornata.